Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Nel video di oggi diamo un'occhiata ad un altro tempo molto utilizzato nella musica in genere. Parliamo del 5 quarti, quindi partiamo sempre dalla nostra bella battuta di 4 quarti e aggiungiamo un quarto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Come riff utilizziamo più o meno sempre quello che avevamo usato per il video dei 7 ottavi. Sempre con centro tonale fa diesis minore, sempre friggio. Questa volta però inseriremo la intro di una canzone abbastanza famosetta che sicuramente molti di voi riconosceranno subito. Groove di batteria, questa volta mettiamo su proprio il metronomo schietto proprio anche per rimanere più liberi con la ritmica propria. Quindi 5 quarti, 140 battiti per minuto, vediamo cosa ci salta fuori. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 3. Grazie a tutti. Fermiamo il metronomo, 5 quarters, hot time signature, freezer metal riff, bye bye.